Siamo con Davide Garbolino, una delle voci più famose del mondo dei cartoni animati, come? Come non lo so, ma anch'io me lo domando. Ah, come, nel senso quale? Pax Bunny, Ash, Nobita. Ash, è quasi Magia Johnny. Tantissime, tantissime, tantissime. Sarai con noi. Sarò con voi, ma non a doppiare dei cartoni animati, a divertirmi. A divertirti insieme con noi e soprattutto con voi. Certo, ci vediamo a Udine, ragazzi, mi raccomando, e tenetemi liberi per tutto il 2017, perché un giorno o l'altro io capiterò a Udine e insieme ci divertiremo molto. Io sono cresciuto con Bax Bunny. È colpa mia, guardate le carote come fanno bene, visto? Ci aspettiamo. Ragazzi, mettete un clic, cliccate un mi piace qua sotto, se vi piace, ovviamente, e rimanete sintonizzati perché presto ci vedremo a Udine. Ciao, da Mirko e Davide. E da Davide e da Mirko. Hai sbagliato, sono Igor.